Per passare la categoria regina, pronti via sfida draste, Super Pro E.T. Dall'altra parte, con noi due amici nemici, team Toxic Dragon. Vanno a guidare con il Traste Ray, il Sébastien Touzou, ricordiamo l'occatore francese 2010, 2019, 2013, team Toxic Dragon Racing. Squadra leader in Francia, vanno allineamento, sfida pesante. 1.500 cavalli con la possibilità di andare a 2.000. Sébastien Touzou, Román Gullá, team Toxic Dragon Racing. On a kick the boy. Questo è l'apporto degli emaci, draste americani. Attenzione, categoria Super Pro E.T. 8.45. 7.1 per Sébastieno, 8.4. 7.1, incredibile. 7 secondi. Attenzione, arriva un altro draste dal piede pesante. Enrico Gullá, l'avventura. Di conoscente. 7 secondi. 8 secondi. 7 secondi. 8 secondi. 8 secondi. 8 secondi. 9 secondi. 9 secondi. 9 secondi. 9 secondi. 10 secondi. 10 secondi. 1.400 parametri, una possibilità di andare più con le nostre, per il Traster di Enrico Angeloni, il Traster Day, 11.6% dei tempi pubblici sempre Traster, numero 72, Eric Angeloni, vincitore dell'E-Race 2014, lui è il Presidente dell'Associazione Traster di Francia, è l'ora di riprendimento del Montenegro Presidente, solo per l'alzare il Traster, che arriva direttamente prima dall'America e poi dall'altra parte, si lancia in questa sfida contro il Traster, 8.57, 7.25 per il Traster, di Enrico Angeloni! 7.3 per il Traster, 7.5 per il Traster, 7.3 per il Traster, 7.3 per il Traster, e adesso... 7.3 per il Traster, 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 7.3 per il Traster 875, tempo dichiarato per Matrix Select, 875, guardate l'effetto della ruota posteriore che si avviccia, si avviccia, pressione bassissima per i suoi posti. 875, tempo dichiarato per i suoi posti, 875, arriva l'effetto della ruota posteriore con questa tratta. 875, Lew capture dippaうわ $1, collaborations, si avviccia, si avviccia, si avviccia, si avviccia, si avviccia, si avviccia, passione, ripensFilmi, économica, giusola per i suoni la straffità, interior Schneider, entrare la ruota per ogni 675, Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.